Per la rubrica Incipit, solo il primo capitolo, solo classici, Le avventure di Pinocchio, di Carlo Collodi, edizioni, letteratura italiana e inaudi, legge Gabriele. Come andò che maestro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio, se non che tutti lo chiamavano maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura. Appena maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce. Questo legno è capitato a tempo, voglio servirmene per una gamba di tavolino. Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e a digrossarlo, ma quando fu lì, per lasciare andare la sua prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile che disse raccomandandosi «Non mi picchiar tanto forte, figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro Ciliegia». Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vede nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel corbello dei truccioli e della segatura e nessuno. Aprì l'uscio della bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno. Odunque. «Ho capito», disse allora ridendo e grattandosi la parrucca. «Si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare». E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno. «Oi, tu m'hai fatto male», gridò rammaricandosi la solita vocina. «Questa volta, maestro Ciliegia, resta di stucco». «Cogli occhi fuori dal capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana». Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire, tremando e balbettando dallo spavento. «Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto «Oi!» «Eppure qui non c'è anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino, io non lo posso credere». «Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da caminetto, come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco c'è da far ribollire una pentola di fagioli. O dunque, che ci sia nascosto dentro qualcuno. Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io». E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si mise in ascolto, per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò due minuti e nulla. Cinque minuti e nulla. Dieci minuti e nulla. «Ho capito», disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. «Si vede che quella vocina, che ha detto «Oi, me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare». E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a cantarellare per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte lascia, prese in mano la pialla, per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo «Smetti! Tu mi fai il pizzicorino sul corpo!». Questa volta il povero maestro Ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurato. E perfino la punta del suo naso, di paonazza, come era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura. Maestro Ciliegia regala il pezzo di legno al suo amico Geppetto, il quale lo prende per fabbricarsi un burattino maraviglioso che sappia ballare, tirar di scherma e fare i salti mortali. In quel punto fu bussato alla porta. «Passate pure!» disse il falegname senza aver la forza di rizzarsi in piedi. Allora entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo, il quale aveva nome Geppetto, ma i ragazzi del vicinato, quando lo volevano far montare su tutte le furie, lo chiamavano col soprannome di Polendina, a motivo della sua parrucca gialla che somigliava moltissimo alla Polendina di Gran Turco. Geppetto era bizzozzissimo. Guai a chiamarlo Polendina, diventava subito una bestia e non c'era più verso di tenerlo. «Buongiorno, Mastrantonio!» disse Geppetto. «Che cosa fate costì per terra?» «Insegno l'abbaco alle formicole?» «Buon provi faccia!» «Chi va portato da me, compar Geppetto?» «Le gambe! Sappiate, Mastrantonio, che sono venuto da voi per chiedervi un favore. Eccomi qui, pronto a servirvi!» replicò il falegname rizzandosi sui ginocchi. «Stamani mi è piovuta nel cervello un'idea. E sentiamola!» «Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno, ma un burattino maraviglioso, che sappia ballare, tirar di scherma e fare i salti mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchier di vino, che ve ne pare?» «Oh, bravo Polendina!» gridò la solita vocina, che non si capiva da dove uscisse. A sentirsi chiamar Polendina, compar Geppetto diventò rosso come un peperone dalla pizza e, voltandosi verso il falegname, gli disse in bestialito «Perché mi offendete?» «Chi vi offende?» «Mi avete detto Polendina?» «E non sono stato io.» «Sta un po' a vedere che sarò stato io. Io dico che siete stato voi.» «No! Sì! No! Sì!» E riscaldandosi sempre più, vennero alle parole e ai fatti. E acciuffatisi fra di loro, si graffiarono, si morsero e si sbertucciarono. Finito il combattimento, Mastrantonio si trovò a fare le mani la parrucca gialla di Geppetto. E Geppetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname. «Rendimi la mia parrucca!» gridò Mastrantonio. «E tu rendimi la mia e rifacciamo la pace!» I dovecchietti, dopo aver ripreso ognuno di loro la propria parrucca, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. «Dunque, compar Geppetto», disse il falegname in segno di pace fatta, «Qual è il piacere che volete da me? Vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino. Me lo date?» Mastrantonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure. Ma quando fu lì per consegnarlo all'amico, il pezzo di legno dette uno scossone e, sgusciandogli violentemente dalle mani, andò a batter con forza negli stinchi impesciuttiti del povero Geppetto. «Ah! Gli è quel questo bel garbo, Mastrantonio, che voi regalate la vostra roba? Ma avete quasi azzoppito!» «Vi giuro che non sono stato io! Allora sarò stato io! La colpa è tutta di questo legno! Lo so che è del legno, ma siete voi che me l'avete tirato sulle gambe! E io non ve l'ho tirato!» «Geppetto, non mi offendete! Se no, vi chiamo Polendina!» «Asino! Polendina! Somaro! Polendina! Brutto scimmiotto! Polendina!» A sentirsi a chiamare Polendina per la terza volta, Geppetto perse il lume dagli occhi, si avventò sul falegname e lì se ne dettero un sacco e una sporta. A battaglia finita, Mastrantonio si trovò due graffi di più sul naso e quell'altro due bottoniti meno sul giubbotto. Pareggiati in questo modo i loro conti, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Intanto Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e, ringraziato Mastrantonio, se ne tornò soppicando a casa. Geppetto, tornato a casa, comincia subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome di Pinocchio, prime monellerie del burattino. La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice. Una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo per davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino. Che nome gli metterò? disse fra sé e sé. Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre, Pinocchio i ragazzi. E tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Quando ebbe trovato il nome dal suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte e poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua maraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e lo guardavano fisso, fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito «Occhiacci di legno, perché mi guardate?» Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso. Ma il naso appena fatto cominciò a crescere e cresci, 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e lo scorciva e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. «Smetti di ridere!» disse Geppetto impermalito, ma fu come dirlo al muro. «Smetti di ridere, ti ripeto!» urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo, si voltò in su e cosa vide? vide la sua parrucca gialla in mano al burattino. «Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca!» e Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece triste e melanconico, come non era mai stato in vita sua, e voltandosi verso Pinocchio gli disse, «Birpa ad un figliolo! Non sei ancora finito di fare e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre! Male, ragazzo mio! Male!» e si rasciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. «Me lo merito!» disse allora fra sé. «Dovevo pensarci prima! Ormai è tardi!» Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra, sul pavimento della stanza, per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi e Geppetto lo conduceva per mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza, finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere, perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre e battendo i suoi piedi di legno sull'astrico della strada faceva un fracasso come venti paia di zoccoli da contadini. «Piglialo! Piglialo!» urlava Geppetto. Ma la gente, che era per la via, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo e rideva, rideva, rideva da non poterselo figurare. Alla fine, e per buona fortuna, capitò un carabiniere, il quale, sentendo tutto quello schiamazzo e credendosi trattasse di un puledro che avesse levata la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, con l'animo risoluto di fermarlo e di impedire il caso di maggiori disgrazie. Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada, si ingegnò di passargli, per sorpresa, fra mezzo alle gambe e invece fece fiasco. Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso. Era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto, il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi. Ma figuratevi come rimase quando nel cercargli gli orecchi non gli riuscì di poterli trovare. E sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola e mentre lo riconduceva indietro gli disse tentennando minacciosamente il capo Andiamo a casa. Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti. Pinocchio a quest'antifona si buttò a terra e non volle più camminare. Intanto i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi lì d'intorno e a far capannello. Chi ne diceva una? Chi ne diceva un'altra? Povero Burattino, dicevano alcuni, ha ragione a non voler tornare a casa. Chi lo sa come lo picchierebbe quell'omaggio di Geppetto? E gli altri soggiungevano malignamente. Quel Geppetto pare un galantuomo, ma è un vero tiranno coi ragazzi. Se gli lasciano quel povero Burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi. Insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimise in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel pover uomo di Geppetto, il quale, non avendo parole lì per lì per difendersi, piangeva come un vitellino e nell'avviarsi verso il carcere balbettava singhiozzando. Ci augurato figliuolo! E pensare che ho penato tanto a farlo un Burattino per bene! Ma mi sta il dovere! Dovevo pensarci prima! Quello che accadde dopo è una storia da non potersi credere e ve la racconterò in questi altri capitoli. Per la rubrica Incipit, solo il primo capitolo, solo classici, avete ascoltato Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, edizioni letteratura italiana e in Audi.